Quando mancano 5 minuti più recupero al termine di Palermo-Catania. Parte Bovo, traiettoria lunga per tutti, non può arrivare tedesco, ha colpito male. Cesare Bovo si ripartirà dal rinvio di Bizzarri. Ricordo che il Catania, nelle ultime 33 partite giocate fuori, soltanto una volta non ha subito gol. Anche questa molto lontana, era il 22 marzo del 2008 a Bergamo, finì 0-0. Quindi a un anno di distanza praticamente il Catania riesce a non subire gol in trasferta, almeno per ora. Mancano ancora 4 minuti e mezzo. Balzarretti. Bovo per Simplicio. Lungo per Miccoli. Silvestre, tedesco, spazza via Stovini. C'è stata forse una gomitata. Arriva Rosetti. No, non... Allarga il braccio Miccoli, colpisce innanzitutto l'avversario al corpo e non in faccia. Forse c'è stato un contatto involontario con la testa di Miccoli, ma insomma non voleva sicuramente far male a Silvestre. Quindi nulla da dire. Rimessa laterale per il Palermo. In panchina, Walter Zinga. Liberani. Chiude Pagliocco. Sconfitta pesante, Antonio temi qualche ripercussione. Questo è un K.O. duro da assorbire. Un punto nelle ultime tre partite per il Palermo. Sono tanti. Un derby perso 4-0. Ripeto, potevano esserci anche uno più gol del Palermo. Ma poi sappiamo anche le pressioni qui, insomma anche il presidente che avrà visto questa partita. Magari, non lo so. Poi, domenica va con la Fiorentina. Il campione del Palermo, un mese fa, prima di queste tre partite, era una posizione ottimale anche per giocarsi la UEFA. Adesso si ridimensiona, ma è una squadra che cerca sempre di giocare. Ripeto, oggi sicuramente quando è rimasto in 10 pensavo, non dico che si coprisse più, attenzione, si coprisse più Ballardini. Però, magari con un Catania molto propensa a ripartire in velocità, rapido, con due attaccanti pericolosi. Magari 4-4-1, insomma, ha rischiato molto, sì, per riprendere la partita. Ha lasciato molti, molti spazi. Anche se poi andiamo a vedere, Catania è veramente stato cinico il primo tempo. Tre tiri, tre golle. Secondo, magari due o tre contropiedi. Qui è venuto anche il bellissimo gol di Paulucci. Bisognerà vedere come reagisce la Piazza, soprattutto il presidente che in questi casi magari valuta, magari un po' a caldo la prestazione. Liberani. L'esterno, gran palla per Balzaretti. Blocca senza problemi bizzarri. Balzaretti ormai sa che lui basta andare, basta andare, gli arriva sempre la palla. Od esterno, con il collo da Liberani. Si trovano a memoria, hanno giocato insieme a Firenze. Si trovano, nonostante Balzaretti non fosse impiegato molto da Prandelli con la Fiorentina. Un po' di testa intanto da parte di Potenza. Addirittura cinque minuti di recupero. Balzaretti, tedesco. Parte il cross. Miccoli di testa. Non dà Potenza questo pallone. Nessun problema allora per Bizzarri. Non ce la faccio più, dice Bizzarri. Lascio profondità a cercare Paolucci. De Gira torna a Carrozzieri di testa a Bovo. Nessuna squadra aveva mai segnato quattro gol al Barbera in questo campionato. A tre si era fermata la Fiorentina. Poi il Palermo ha costruito la classifica molto in casa, nelle proprie mura. Quindi, ecco, ancora di più da valutare proprio per la sconfitta. A parte che è un derby, proprio per le dimensioni della gara stessa. Silvestri. Largo a sinistra, Bagliocco. C'è Paolucci al centro. Ecco il tocco per Bagliocco. Attenzione, Silvestri si posiziona centralmente. Bagliocco mette dentro. Silvestri! Alto! Quindi qui vi magari dà la palla per andare in area di rigore. Carrozzieri lo perde perché va a marcare Paolucci. In questo caso ha la possibilità di calciare solo. Con il sinistro, non il suo piede. Non trova la porta, ma pericolosa ancora una volta. Perché la marcatura qui di Carrozzieri non è stata molto vicina all'uominale di rigore. Stovini. Bagliocco. Sta per arrivare il novantesimo. Fa girare il pallone il Catania. Carboni. La rimessa in gioco ancora per la squadra di Zinga. Cinque minuti di recupero. Il regolamento sicuramente è dalla parte di Rosetti. Il buon senso, mi permetto di dirlo, un po' meno. Perché io non credo che il Palermo possa recuperare questa partita. Dare cinque minuti di recupero è un po' eccessivo. Non ce n'è bisogno. Non so se Antonio Di Gennaro è d'accordo. D'accordissimo. Bazzaretti. Carrozzieri. Liverani per Bovo. Lancio in profondità. Colpo di testa da allontanare. La parte della difesa del Catania. Adesso Tedesco a lottare. È bravo ad andare su questo pallone. Un altro ex Perugia con Liverani e Bagliocco. Ai tempi di Cosmi. Giovanni Tedesco. Atalanta a zero, Chievo due. Ha raddoppiato. Si è su calcio di rigore dopo il gol di Langella. Attenzione. Mascara. Mascara. Pallonetto di Mascara che scivola al momento del tiro. Non riesce a colpire nel migliore dei modi. Ha fatto tutto bene. E Bagliocco l'ha visto anche senza guardare. Liverani non poteva arrivare molto stanco. Poteva andare più avanti. Ha cercato il pallonetto. Amelia si sta arrabbiando. Però si danno la mano perché magari voleva ancora beffare il portiere. Come nel terzo gol. Attenzione. Paolucci prova il dribbling. Buona la chiusura di Bovo. Non è finita però perché ancora Bagliocco è in possesso palla. Gira tutto dalla parte di Izco. Avanza Izco. Il tocco è per Paolucci. Fallo su di lui. È calcio di punizione in favore del Catania. Fallo di Bovo ai danni di Michele Paolucci. Paolucci che oggi ha realizzato il suo gol numero 6 in campionato con la maglia del Catania. Non segnava dal 18 di gennaio. Quindi un mese e mezzo dopo torna a segnare l'ultima rete contro il Bologna in casa. Un gol quello che però non era servito ad evitare la sconfitta. E ora un'altra chance per la squadra di Walter Zenga. Altri tre minuti di recupero da giocare. Dei cinque concessi da Rosetti. Pronto Mascara. Il fischio di Rosetti. La rincorsa di Mascara. Pallone che termina alto. Destro a giro provato da Mascara. Si riparte subito da Amelia. Balzaretti. Liberani. Carrozzieri. Lancia in profondità. Tensione sponda. Miccoli. Pizzarri. Insuperabile. Miccoli rimane, come dire, non riusciamo a buttarla dentro. Ripeto, se lo meriterebbe anche questo, perché stop di petto e subito calciare al volo. Ma Bizzarri è nella posizione giusta, anche se parla in due tempi. È molto preciso. Va giù Biagianti sull'intervento di Bovo. Ancora un calcio di punizione per il Catania. E ancora un minuto e mezzo da giocare. Bagliocco. Carboni. Rimpallo su Succi. La rimessa laterale sarà per il Catania. Uomini partita per Antonio Di Gennaro. Da una parte e dall'altra. Mascara e Balzaretti nel panello. Con annotazione, come ho detto, sia per Morimoto che Bizzarri. Paolucci. Buona la copertura di Carrozzieri che fa su il pallone con il petto. Ora deve liberare Carrozzieri. C'è lo spazio per farlo. Lancio in profondità. Aggancia Bagliocco. Ancora Carrozzieri che allontana. Mette fuori Silvestre. Aggancia Liverani. Possiamo anche tranquillamente tirare le somme. Un Catania che dopo la vittoria contro la Regina ne ottiene un'altra preziosissima. Un buon momento dopo aver sofferto. Dopo che era arrivata anche qualche voce strana per quanto riguarda Walter Zinga. Ma onestamente sembrava molto ingeneroso. Visto il lavoro di questo allenatore, il Catania era partito fortissimo. Era ridosso dalla zona Champions League addirittura. Poi un calo prevedibile, normale. Adesso sta tornando su ottimi livelli. Sette punti nelle ultime tre partite. Lo stesso non si può dire per il Palermo. Che è vero rimane a più tre sul Catania in classifica. Ma un punto nelle ultime tre gare per la squadra Rosaniro. Soprattutto due sconfitte in casa la Juve e con il Catania che pensavano di fare più punti. Il Catania è una squadra che ha dimostrato di essere allenata bene. Di essere sicuramente molto concentrata, molto attenta nelle ripartenze. E questo insomma il risultato lo premia. Palermo 0, Catania 4.